Musica Risuonano nella nostra sede le notte del violoncello del maestro Gianluigi Fiordeliso che con l'ansambla dei violonceglieri ha conquistato prestigiosi riconoscimenti. I giovani violoncellisti suonano con passione e studiano all'Accademia all'interno dell'Auditorium Cerulli di Pescara nella Casa delle Arti. Il maestro Fiordeliso annuncia due concerti totalmente gratuiti. Dunque partiremo appunto questo venerdì 7 luglio a Teramo presso la splendida cornice della Madonna delle Grazie, del Chiostro di Madonna delle Grazie, invitati appunto dall'Orchestra da Camera Benedetto Marcello che ha la trentesima edizione della sua rassegna concertistica. Si proseguiremo poi l'8 luglio, sabato 8 luglio a Penne per il Festival Incontri d'Estate curato dall'associazione APS Musica e Cultura sotto la direzione artistica di Michela De Amicis è una rassegna composta di una serie di 15 concerti che si concluderanno il 17 di ottobre. Grazie a tutti!